Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata. Benvenuti a una nuova puntata di Sì. Senti un po', dobbiamo accendere il museo del terrore. Perché? Perché c'è uno che lo vuole vedere. Ah beh, aspetta perché adesso dobbiamo fare la trasmissione. No, 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 questo lo devi vedere. Lo vuole vedere con una guida. E' proprio aspetta, aspetta un'ora, aspetta poi gli faccio da guida. Non adesso c'è mai una trasmissione, Salvatore. Dai, vai a dirgli di aspettare. La presente è tipo la manna dal cielo? Eh. Questo vuole vedere il museo da solo con una guida. E quanto ci chiede? E quanto ci dà? 250. Bollars! E possiamo arrivare pure a 300. Beh, perché c'è poco la faccia. Da 300? Anche da 350. Anche da 350, non ha salvo. Sai che cosa devi fare? Vai. Corri. Vai. Sì, corri giù. Ma aspetta, aspetta. Ma fra un minuto siamo in diretta. Ci penso io, non ti preoccupare. Ci penso io. C'è il timer. C'è il timer, ci penso io. Tanto è collegato all'orologio, no? Il timer. Corri, corri, corri. Sì. C'è il timer. Ok. Ok. oh my god follow me follow me here is this way your hand this way okay here oh my god come no i'm afraid i'm a little come on don't be scared this is the house of terror of the creepy creeps come in okay okay look at me i can relate this look down there the skull oh it's real yes it's real oh 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 no oh 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 and here and here you can you can see The bottle of poison, le bottiglie di veleno, the real bottle of poison Oh, can I touch him? Don't touch him! No, no, you can die! Puoi morire! The poison is still there! Oh my God! Yeah! Come here! Come here! A real skeleton of dead people, a skeleton of a person, a dead person! Yeah! It's look real! No, no, it is real! It is real! Look at the face! Amazing! Amazing, no? Yes, amazing! The feet is broken! Okay, come here! Come, come and look here! Oh my God! Come here! Oh, there's a window! Yeah, window, window! Come here! The mummy! No, the mummy! After, after the mummy! This is Michael Jackson's dead head! You know Michael Jackson? It's the real! The real dead head! The singer! The singer! Michael Jackson! Morto, morto, la testa! I know him! Can you hear the music? It's you! No, 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 it's him! It's still alive, yes! Yeah, I can't believe it! Ow! Did you hear it? Did you hear it? Listen to it! Yes! I can't believe it! Still alive! Here! Do you remember Pink Floyd? The wall? Yes! Questi sono i mattoni del muro dei Pink Floyd! The wall of the... The real bricks from the wall! Pink Floyd! It's impossible! No, no, they are! It's impossible! And look here! Oh! I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! 2000 years and 500 years ago, Egyptian discovered America before Cristoforo Colombo! I cannot believe this! And they used to drink room in America! Really? Oh! Like this! It's so old! So old! So old! There's so much history in this place! Yeah, yeah, look here! Look at everything! Yes! Oh my God! What is this? Oh my God! The first porn from Egypt! Oh! Ram Settete! What is this light? Ram Settete! What is this light? The light! The light! Oh, the light from beyond! This is the light of heaven! You know? If you look inside, guardi dentro questa luce e vedi il futuro! Hell or heaven! Paradiso o inferno! Who knows? Sei stato bravo? Sei stato bravo o no? Con sta faccia che fa... A gun! The gun from Billy the Kid! Don't shoot! It doesn't work! It doesn't work anymore! My heart is weak! Are you ready? Your heart is weak? This is the mummy! Oh my God! Ah, yes! The real mummy! Oh my God! Come here! Come here! I'm afraid! I'm afraid! No, no, no! Don't be scared! Don't be scared! Oh my God! The mummy is dead! He's dead! But you can see it! It looks real! Yes! It seems real because it's the microclimate! The microclimate! The weather! It's preserving the mummy! Touch it! Oh yes! In this place there's a climate! Okay! Oh my God! Touch it! Oh my God! Okay! Touch it! Oh! 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 Eh? Oh! Eh? Okay! Oh! He's not too much! He's not too much, he's not too much! Yeah no no it's... Of course he's fragile! Oh no no it's fragile! That's fragile! Oh my God! It's... It's... It's soft! Yes! How... How is possible? Yes! Oh, signor, mister, mi è salvato, ma che sei scemo? Trove, tacci, tacci, ma questo ti pide all'infarto? Adesso ha detto che il cuore è weak, weak, heart weak, vuol dire weak, vuol dire deb... Signor, mister, mister, è un heart attack, mister? Porco Giuda, che è venuto l'infarto, salvo. E che facciamo? E che facciamo? Non c'è, 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 non c'è. È un'organica deficiente, sembra, un deficiente, portiamolo fuori, lo mettiamo in strada, fuori, davanti al ristorante del signor Tony, chiamiamo l'ambulanza. Chiamiamo l'ambulanza e poi chi sei visto sei visto. Buttiamo vicino ai castanetti. Sì, vicino ai castanetti qualcuno lo trova, è il tuo peso. Porco Giuda, che sei maniato, questo è l'infarto, gli è venuto per forza, immagini di trigliceridi. Grazie a tutti.